buongiorno da btg news oggi 29 aprile santa caterina al siena il 29 aprile si festeggia in tutto il mondo la giornata internazionale della danza promossa dall'international dance console dell'unesco una giornata di festa che accomuna tutti i paesi del mondo la commemorazione istituita nel 1982 del comitato internazionale della danza dell'istituto internazionale del teatro la data commemora la nascita di jean-gerge nouvert che fu il più grande coreografo della sua epoca il creatore del balletto moderno l'intenzione del messaggio della giornata internazionale della danza celebrare la danza godere dell'universalità di questa forma d'arte attraversare tutte le barriere politiche culturali ed etniche e riunire le persone con un linguaggio comune la danza appunto ogni anno il messaggio di un coreografo ballerino eccezionale viene tradotto in numerose lingue e diffuso a livello pubblico Grazie a tutti.